Musica E' sbarcata al porto di Ancona anche la nave umanitaria dei Medici Senza Frontiere, a bordo 73 migranti. Musica Non si ferma lo sciame sismico nelle Marche, un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nel mare Adriatico, a largo della costa pesarese. Musica Edilizia ospedaliera, strade, ciclovie, scuole e rischio idrogeologico, la regione investe oltre 250 milioni di euro per le infrastrutture marchigiane. Musica Via le auto per una nuova pavimentazione, sedute, alberature e una fontana. Piazza Marcolini a Fano è pronta a rifarsi il look. I lavori potrebbero terminare per la fine dell'estate. Musica Crowfunding della Fondazione Carifano, raccolti 146 mila euro da 8 associazioni del territorio. Oggi la presentazione dei progetti. A Centinarola di Fano, installato un defibrillatore al servizio del quartiere. Musica Nuovo appuntamento con l'informazione locale, benvenuti sul canale 19 di Fano TV. Occhio alla notizia. Dopo oltre 5 giorni di navigazione a velocità ridotta a causa del maltempo, è attraccata alla banchina 22 del porto di Ancona, la Geo Barents. A bordo della nave di medici senza frontiere, 73 migranti, tra cui 16 minori non accompagnati, soccorsi sabato scorso da un gommone sovraffollato in difficoltà in acque internazionali a largo della Libia. Lo scalo marchigiano è stato assegnato dal Ministero dell'Interno e le operazioni sono coordinate dalla Prefettura, mentre alla Protezione Civile Regionale è stato chiesto un aiuto logistico per l'allestimento di un punto di prima accoglienza. Lunedì sera era arrivata la Ocean Viking con a bordo 37 naufraghi, ripartita ieri mattina. E non si ferma lo sciame sismico nel mare Adriatico, iniziato dopo le forti scosse del 9 novembre scorso. Questa mattina è stato registrato un nuovo terremoto a largo della costa pesarese di magnitudo 3.8. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato registrato alle 8.06, seguito da una replica di minore intensità all'altezza di Torrette di Fani. La Regione Marche procede spedita per le infrastrutture marchigiane con oltre 250 milioni di euro. Tra le priorità rientra l'edilizia ospedaliera. Per Fano sono previsti 30 milioni di investimenti. Con oltre 252 milioni di euro tra assestamento 2022 e stanziamenti per il triennio 2023-2025, di cui 233 milioni di investimenti da destinare alle infrastrutture delle Marche, spingiamo al massimo i motori della nostra Regione. Così l'assessore Francesco Baldelli, il quale ha illustrato le cifre che la Giunta Acquaroli investe per dare, ha detto, una risposta forte, concreta e immediata ai bisogni della Regione. Lavori pubblici, edilizia sanitaria, ospedaliera, strade, ciclovie, edilizia scolastica, contributi ai comuni e rischio idrogeologico. Questi sono i settori coinvolti, oltre agli interventi per progettare, completare e realizzare opere che in molti casi sono attese da decenni. Invitiamo i comuni a investire nella progettazione di qualità perché solo con la qualità possiamo far riportare nel nuovereo delle Regioni di Serie A, la Regione Marche, con al centro anche la provincia di Pesaro e Urbino. Dati mai visti, nei trienni precedenti all'insediamento della Giunta Acquaroli, gli investimenti in qualità e in infrastrutture erano pari a circa il 9% delle risorse libere del bilancio regionale. Con questo bilancio, soprattutto con gli investimenti in infrastrutture, siamo arrivati al 24% di risorse della Regione Marche investite sia quantitativamente nelle infrastrutture che qualitativamente, fino ad arrivare a punte del 30,33% nel 2025. Questo processo virtuoso di rilancio della Regione Marche, ha proseguito Baldelli, lo vogliamo incrementare anche nei prossimi anni. Investimenti in edilizia sanitaria e ospedaliera e questa provincia viene premiata per rinnovare delle strutture, permettetemi di dire, trovate in condizioni di vecchiaia incredibile. Vecchiaia significa che sarebbero infrastrutture che di fronte ad una crisi sismica importante non sarebbero utilizzabili per soddisfare il fabbisogno dei nostri concittadini. Non solo il nuovo ospedale di Pesaro di cui si parlava da decenni, un ospedale non più unico, tanto che, ad esempio, nella città di Fano avremo oltre 30 milioni di investimento per l'ospedale Santa Croce, la nuova palazzina delle emergenze e urgenze tecnologicamente avanzata, ma anche l'ospedaletto che ospiterà l'ospis e io spero anche la casa della comunità per investimenti superiori ai 7 milioni di euro. Sempre in ambito sanitario rientrano la palazzina per l'emergenza urgenza di Urbino, l'ospedale di comunità di Monbaroccio, la ristrutturazione complessiva del nosocomio di Pergola, il potenziamento dei servizi di Sasso Corvaro e il nuovo ospedale di Cagli. Non dimenticando anche un intervento che dovrà essere messo in cantiere, la ristrutturazione e nuovi servizi anche per l'ospedale di Fossombrone. Poi le ciclabili, dalla ciclovia adriatica arrivando alla ciclovia del Metauro, la ciclovia del Foglia e la ciclovia del Cesano, ma anche infrastrutture stradali importanti che faranno non solo la fortuna dello sviluppo economico della Valle del Metauro, del Cesano e del Foglia, ma che saranno un traino per la nostra intera regione. E c'è anche grande attesa per la riqualificazione di Piazza Marcolini nel centro storico di Fano. A breve partiranno i lavori che potrebbero concludersi entro l'estate. Dopo l'approvazione in giunta del progetto esecutivo, il Comune di Fano aveva bandito la gara per l'affidamento dei lavori in Piazza Marcolini, un intervento annunciato da tempo che ha subito delle correzioni in corsa, tra cui la decisione di conservare otto dei nove lecci. Uno di questi era stato espiantato e collocato in un giardino privato a camminate grazie a un gruppo di cittadini ambientalisti. Ed ecco come diventerà quest'area del centro storico oggi adibita parcheggio. Ad illustrare i dettagli, l'assessore ai lavori pubblici e al decoro urbano, Barbara Brunori. In questo momento la gara è conclusa e stiamo aprendo le busse per poi aggiudicare i lavori. I lavori dovrebbero terminare entro l'estate, proprio perché comunque sono lavori sostanziali e quindi non solo architetturali ma deve essere rifatta la pavimentazione, l'illuminazione, sedute poi su un'area purtroppo fortemente degradata e nel preservare quelle che sono alberature, e quindi con un'attenzione maggiore. Dopodiché la cisterna verrà preservata perché è stata ritrovata nella parte sottostante e per salvaguardarla diciamo che nella parte sopra verranno applicate delle sedute proprio per evitare un sovraccarico di peso che non è idoneo a quello spazio. Per quanto riguarda la fontana invece? La fontana verrà assolutamente recuperata proprio perché questo spazio ha una vocazione artistica, è stata riqualificata da un architetto e quindi anche poi con l'aiuto di quello che è il liceo artistico a Polloni con il grande entusiasmo dei ragazzi che in questi mesi hanno perseguito l'obiettivo, anzi con grande maestranza e mi sento di ringraziarli perché si sono messi a disposizione e presto troveranno qui al centro di questa nuova piazza un loro prodotto, un qualcosa realizzato e riqualificato con le loro mani. Il progetto complessivo, ha poi ricordato Brunori, è stato realizzato dai tecnici del comune, in prima linea l'architetto Elena De Vita con il supporto dell'architetto Pamela Lisotta e del geometra Mario Silvestrini responsabile del procedimento. Anche a loro sono andati i ringraziamenti dell'assessore. Un'attenzione particolare è stata rivolta anche all'illuminazione. Un'illuminazione scenografica architetturale che valorizzerà la piazza in tutta la sua essenza, sono previste un'illuminazione a LED nella parte delle sedute, quindi di fianco le tre ampie aree verdi, ma anche una nuova illuminazione a luce lavata sulla facciata del Palazzo Marcolini, proprio per valorizzarla in tutte le sue parti. Ricordo che la luce lavata è proprio la stessa che noi abbiamo applicato sul pincio, quindi dà anche questo effetto suggestivo per valorizzare ancora di più la memoria storica. Un intervento importante anche per valorizzare questo piccolo scorcio del centro storico? Sì, un intervento dove, come vedete oggi, è stato un po' lasciato a parcheggio, invece ha una forte vocazione culturale, non solo per la presenza di questo palazzo, dove hanno vissuto tanti personaggi illustri, hanno fatto la storia e non per ultimo poi si è insiedato quello che è il liceo artistico a Polloni, dove tre di questi componenti poi hanno proprio realizzato la stele che tornerà al centro. Un luogo dove ci auguriamo di realizzare tante iniziative anche di carattere culturali per tutta la città, proprio che ospiti sia tutto quello che potrebbe essere il lavoro di associazioni, ma anche di singoli cittadini che veramente nella loro semplicità vorrebbero sedersi per leggere anche un libro. Questo è uno spazio molto bello che torna ad essere della città, uno spazio che ci auguriamo che sia vissuto al meglio. Ed ora apriamo la pagina dedicata alle vostre segnalazioni, andiamo a Carrara dove un cittadino si rivolge all'amministrazione di Fano per intervenire al più presto sulle caditoie diventate ormai pericolose con dislivelli notevoli sull'asfalto, come potete vedere da queste fotografie. Inoltre il segnalatore fa sapere che via Arno, la strada che porta da Carrara fino a Falcineto e Bellocchi, è piena di buche. Sarebbe orendi di intervenire, scrive il segnalatore, anche noi paghiamo le tasse. Con il bando crowdfunding promosso dalla Fondazione Carifano, otto associazioni del territorio hanno raccolto 146 mila euro, ai quali si va ad aggiungere il contributo stanziato dalla Fondazione di 80 mila euro. Allora sentiamo quali sono i progetti vincitori nel prossimo servizio di Simona Zonghetti. Presentato questa mattina nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, il risultato della campagna di crowdfunding che si è conclusa nel mese di dicembre. Otto dei dieci progetti partecipanti hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta economica. L'iniziativa è stata riproposta dopo successo ottenuto nella prima edizione con la raccolta di 109 mila euro a favore di 13 progetti. È un segno tangibile che il percorso avviato deve proseguire, ha evidenziato il presidente Giorgio Gragnola, perché rende partecipe la comunità sulle iniziative che vengono promosse, impone alle associazioni di avviarsi verso un progetto per poi condividerlo in rete, oltre ad avvicinare anche i giovani al mondo del volontariato. Oltre 146 mila euro sono stati raccolti sul territorio di riferimento della Fondazione per questi progetti che sono stati parte del bando crowdfunding, ai quali si aggiungeranno altri 80 mila euro che la Fondazione mette a disposizione. Quando ci sono dei progetti ben comunicati, strutturati nell'ambito del terzo settore, nel settore del volontariato, della filantropia, della beneficenza, poi troviamo persone capaci di parteciparvi e di dare il loro contributo. È una garanzia ulteriore che la Fondazione riceve con questo significativo atto da parte della cittadinanza e di tutta la comunità del territorio che ha deciso di contribuire alla realizzazione di questi progetti perché è un vaglio importantissimo. Non è la Fondazione che nel suo splendido isolamento decide chi finanziare e in che misura, ma è il territorio che premia i progetti che vengono presentati. Grazie alla Rete del Dono, che è la piattaforma informatica sulla quale sono stati poi presentati questi progetti, grazie al Centro Servizi del Volontariato, grazie a tutti quelli che anche in Fondazione si sono adoperati per realizzare questo significativo risultato. Il progetto che ha ottenuto più contributi è quello presentato dall'Associazione Vivere Sereni, la quale ha raccolto più di 55.700 euro, ai quali si aggiungono 10.000 euro della Fondazione. Sono diretti al diversamente abile, all'anziano, facendo un servizio di collaborazione fra le due persone, l'anziano saggio, il disabile che va aiutato, l'anziano che può aiutare, trasmettere i vecchi valori, trasmettere i mestieri che vanno perduti, coinvolgere le scuole nel nostro centro in modo da far cultura per poter cambiare questo rapporto tra popolazione diversamente abile e anziani soli. E nel vostro intento c'è proprio la realizzazione di un centro di urno? Il primo step è quello di costruire un centro di urno che è già stato, diciamo, è pronto per essere cantierabile e partirà penso a metà di quest'anno. In futuro poi c'è la possibilità di fare un residenziale, a secondo, diciamo, dei bisogni del luogo. E questo è nato proprio raccogliendo i bisogni degli abitanti della Valle del Metauro. Dove verrà realizzato? È realizzato nel vecchio comune di Montemaggiori, in via Carbonara, località San Liberio, che è molto vicino all'uscita della superstrada, quindi è anche un'ottima locazione. L'associazione Onfalos Autismo e Famiglia ha invece presentato il progetto Tutti Insieme per ampliare l'offerta formativa rivolta ai bambini. Attualmente sono 40 quelli seguiti. Vengono organizzati incontri settimanali da 2 a 4 con un rapporto 1 a 1 con l'educatrice. A questa iniziativa si aggiunge un progetto motorio. Ha partecipato anche la Caritas per contrastare la povertà educativa e per colmare le fragilità socio-economiche delle famiglie con minori dai 6 ai 17 anni. L'Africa Chiama invece destinerà i fondi a Facciamo Parte, che ha lo scopo di promuovere il protagonismo giovanile nell'era post-pandemia attraverso i laboratori e il volontariato attivo. Ad illustrare il progetto anche Donatella Menchetti di Adamo, la Ollus, metterà in campo un fisioterapista che raggiungerà i malati oncologici per un sostegno fisico e muscolare. In elenco pure l'associazione Argonauta che gestisce il lago Vicini e che si occuperà di una campagna di sensibilizzazione in ambito naturalistico per lo stagno urbano, mentre Mariposa di Colle al Metauro acquisterà un pulmino per portare anziani e disabili a vivere la vita. Tra le uscite, quelle a teatro, al ristorante e al mare, in passato sono stati accompagnati a Roma per un'udienza papale. La GFI ha partecipato con un progetto che si chiama Facciamoci in Quattro. Di che cosa si tratta? Allora, è un progetto che ha quattro azioni. Ha una ricaduta chiaramente trasversale. Le quattro azioni sono l'idrochinesi terapia, l'acquisto di una bicicletta accessibile per garantire alle famiglie un'uscita domenicale o settimanale in libertà con il proprio figlio che può avere delle difficoltà. Inoltre fanno rugby, un rugby integrato, e laboratori motivazionali per adolescenti e chiaramente anche per i fratelli che hanno figli e che hanno, diciamo, delle condizioni di disabilità. Quindi è un progetto che vuol coprire tante realtà in una condizione esclusivamente inclusiva, perché la disabilità è parte della vita e come tale deve essere considerata una realtà con la quale ci si deve condividere. E tra le realtà coinvolte c'è anche ASI? Assolutamente, abbiamo avuto dei partner importantissimi, ASI, Fanno Rugby, l'associazione Scout Nucci, Sportfly, e quindi, diciamo, sono quelle realtà che rispondono al territorio con delle attività per tutti e la nostra associazione vuole agire in questo senso. L'inclusione è alla base delle nostre attività. Claudio Tarsi è il nuovo direttore della CNA di Pesaro e Urbino. Succede nell'incarico a Moreno Bordoni alla guida dell'Associazione Provinciale per oltre dieci anni ed eletto il 19 dicembre scorso segretario della CNA delle Marche. Ad eleggerlo, all'unanimità, è stata ieri la direzione provinciale su proposta della Presidenza al termine della relazione del segretario uscente. Claudio Tarsi, 54 anni, guiderà l'Associazione dell'Artigianato e della piccola e media impresa provinciale nel ruolo di direttore. Nuova declinazione nell'incarico di rappresentanza che va a sostituire quella storica di segretario di natura più politica e sindacale uniformando così il profilo di coordinamento alle altre CNA delle Marche. E ora ci spostiamo a Centinarola di Fano dove alcuni giorni fa è stato posizionato un nuovo defibrillatore. Il dispositivo è stato acquistato dall'Associazione del Quartiere. Da alcuni giorni anche il quartiere di Centinarola ha il suo defibrillatore pronto all'uso e alla portata di tutti. Il dispositivo è stato acquistato e installato dall'Associazione Viviamo Centinarola e si trova nella piccola area del centro commerciale. Sì, l'Associazione Viviamo Centinarola ha voluto donare questo defibrillatore al quartiere. È un'idea che c'è nata dopo aver organizzato la festa di quest'estate. Abbiamo detto che possiamo fare qualcosa di utile per il quartiere e ci è venuta questa idea. Abbiamo deciso di installarlo proprio vicino alla farmacia del quartiere e proprio anche davanti a tutti i locali commerciali del quartiere proprio per essere al centro del nostro quartiere. Il defibrillatore è proprio qui ed è accessibile a tutti sperando che non ci sia bisogno assolutamente per nessuno però ecco, è il segno di vicinanza dell'Associazione verso i cittadini. Il defibrillatore è utilizzabile da chiunque e nella teca vengono riportate tutte le procedure su come affrontare un arresto cardiaco. Il defibrillatore è molto facile da utilizzare perché comunque si deve girare sulla sinistra e si apre questa teca che lo contiene. È allarmato quindi emetterà un suono e dopodiché ti dà tutte le indicazioni per quello che devi fare. Logicamente bisogna chiamare sempre e subito il 118 per essere poi aiutati nella procedura e comunque il fatto che siamo vicini a una farmacia ci piaceva proprio anche come idea perché comunque abbiamo dei farmacisti che sono sempre qui e sempre in aiuto qualunque cosa succeda. Ed ora apriamo l'album di famiglia di Fano TV e facciamo gli auguri a Gesilde Abbondanzieri attualmente ospite della Casa di Riposo San Francesco di Marotta che ha compiuto 100 anni. A festeggiarla, oltre ai familiari e agli ospiti della struttura ha anche il sindaco Nicola Barbieri. E questa sera facciamo le congratulazioni alla dottoressa Costanza Binci che ieri alla Politecnica delle Marche ha conseguito con il massimo dei voti e la lode la laurea specialistica in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. A lei le congratulazioni più vive anche da parte dei familiari, del fidanzato e degli amici. E vi ricordo che lunedì prossimo ospite a primo cittadino sarà il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli per intervenire in diretta potete fare riferimento ai contatti che vedete in questo cartello. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al pranzo annuale del CB Club Mattei Protezione Civile di Fano. L'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Grazie per essere stati con noi Arrivederci. Grazie per la visione! Grazie a tutti.